Tutti i principi epistemologici che reggevano il decero di Aristotele, soprattutto il movimento, non esiste più. Nel sistema aristotelico come mai un corpo cadeva? Perché raggiungeva il suo luogo naturale. Come mai un corpo saliva? Perché raggiungeva il suo luogo naturale, quindi la terra andava in basso. Per Descartes tutto questo non esiste più, il mondo è unificato, lo spazio è un'unica sostanza e il movimento, poi vedremo, forse avremo modo di dirlo dopo, è un movimento veramente inerziale. Non c'è più nessun punto di riferimento nello spazio. Lo spazio è un'entità geometrica. Non solo questo, non solo quindi con gli Aristotele, ma non solo ha distrutto tutte queste concezioni del mondo aristotelico-scolastico, ma anche il Rinascimento, anche la concezione di magia. Se c'è stato un pensatore laico nella storia della filosofia è Descartes, perché non poteva assolutamente tolerare né la magia né l'astrologia, astrologia che in fondo era coltivata anche da gente come Keplero. Lui andava anche ad intaccare quelle nozioni che erano un po' magiche e che erano all'interno dei pensatori anche moderni. Descartes appunto non ammetteva le cause finali. Le cause finali erano una spiegazione che tutto sommato anche ora si segue. No, insomma, perché l'uomo, il mondo non è per l'uomo e il cosmo non è per il mondo, non è fatto per il mondo, per la terra, per il bene che contiene l'uomo. Tutte queste sono, questa è veramente la distruzione radicale di una cultura. Dal punto di vista costruttivo, innanzitutto c'è una sintonia estrema tra gli autori che tutti quanti riconosciamo come iniziatori della rivoluzione scientifica. In primo luogo Copernico. Descartes diceva e ha scritto se crolla la concezione copernicana crolla anche tutto il mio sistema.